Noi oggi ci aspettiamo dall'istituzione della proprietà stessa di avere più chiarezza possibile per quanto riguarda il nostro futuro. Sia dalla regione che faccia la sua parte, costringendo un po' la proprietà, avere le idee chiare su cosa ci aspetta nel futuro e nella stessa maniera la proprietà che esprima il suo volere se continuare a produrre oppure altre soluzioni.